Battiato non ha ragione nei modi in cui l'ha fatto, però ha ragione quando dice che nel Parlamento ci sono delle donne che non sono all'altezza, ma io aggiungo neanche degli uomini. Diciamo che in questo periodo per quel che riguarda la politica ci sono poche persone che sono veramente preparate per governare, ci sono molti che sono arrivati che non sono istruiti per l'occasione, sia uomini che donne. I grillini hanno dato, quantomeno in Sicilia a mio avviso hanno dato un ottimo esempio, se non ci fossero stati i grillini probabilmente non si sarebbe molto parlato così tanto come se ne parla adesso di tagli alle spese, tagli alle spese della politica soprattutto, adesso tutti ne parlano ma chi ha cominciato a urlare questa cosa non sono stati i grillini. I seminari come questo sono importanti per avvicinare i studenti al mondo del lavoro, il seminario teatro e managgiamento è stato realizzato grazie all'incontro di Tre in realtà, l'università, la di ISU e la volontà degli studenti. Io faccio parte di Instagram che è praticamente un programma partecipato, nato da poco e si propone proprio di realizzare eventi come questi per avvicinare i studenti al mondo del lavoro. E sai quale? Non riesce...